E là esploratori, bentornati su H2Ocean. Io sono Cristian, l'ultima volta non abbiamo avuto modo di presentarci, ma sono uno studente di biologia ed ecologia marina all'Università di Genova e mi piace la biologia marina e mi piace anche parlarne, per cui eccomi qua. Oggi inoltre voglio presentarvi anche una nuova rubrica, si chiama Diario di Bordo. Vi racconterò degli aneddoti di biologia marina e spero vi piaccia, per cui salite a bordo. Molto spesso quando ci guardiamo intorno ci soffermiamo su ciò che vediamo e non teniamo conto delle cose che all'apparenza ci sembrano invisibili, che non vediamo e ci sembrano meno importanti, ma non è così, è proprio quello che succede in biologia. Oggi sappiamo che le specie non sono isolate tra di loro, ad una specie sono associate più e più specie e sono tutte collegate tra di loro, sono tutte parte di un sistema più grande. Per molto tempo i biologi della conservazione, cioè quelli che si occupano di preservare la biodiversità, l'ecologia e gli habitat, hanno un po' ignorato questa faccenda perché è stato sempre difficile valutare queste interazioni e è ancora più difficile quantificarle, cioè quindi ottenere dei dati matematici che permettessero di poter fare delle statistiche, che è fondamentale quando vuoi cercare di lavorare sulla conservazione di una specie o di un habitat. Ma oggi i biologi hanno capito che è fondamentale comprendere tutto questo per poter preservare le specie e gli habitat. La specie di cui parleremo oggi è il pesce pagliaccio. Lo conoscete tutti perché è stato ripreso più volte nel film della Pixar alla ricerca di Nemo. È una specie nativa dell'Indo-Pacifico e quindi è una specie tropicale e è capito che talvolta stringere delle amicizie è molto importante. Nell'evoluzione, quando si presentano delle caratteristiche favorevoli che aumentano la sopravvivenza e la riproduzione degli organismi, ecco questa viene selezionata. È il caso delle simbiosi. Le simbiosi sono delle interazioni che avvengono tra gli organismi e quando queste interazioni sono vantaggiose sia per un individuo che per un altro, ecco che in quel caso si parla di simbiosi mutualistiche. Ed è molto importante perché tramite questo tipo di simbiosi gli organismi riescono a sopravvivere e a riprodursi maggiormente. E questa cosa il pesce pagliaccio l'ha capita. Infatti è associato molto spesso con alcune specie di anemoni di mare. Gli anemoni di mare sono degli cnidari, cioè appartengono allo stesso gruppo delle meduse e dei coralli. Una caratteristica degli anemoni di mare è avere sui propri tentacoli delle cellule specializzate chiamate nematocisti. Sono delle cellule che al loro interno possiedono uno stiletto che quando vengono sfiorate questo stiletto esce fuori e colpisce la preda e può fare molto male, motivo per il quale vi dicono di non toccare le meduse. Uno dei vantaggi principali che il pesce pagliaccio attrae dall'anemone di mare è la protezione. Infatti rinchiudersi all'interno di questa fortezza urticante è molto utile perché i predatori si avvicinano all'anemone, vengono punti e scappano via, per cui il pesce pagliaccio salva il culo. Ovviamente però gli anemoni di mare hanno, nel corso dell'evoluzione, sviluppato delle caratteristiche, dei adattamenti, in particolar modo hanno sviluppato un muco protettivo che gli permette di essere immuni dalle punture delle nematocisti. Questa è una simbiosi mutualistica, per cui anche l'anemone di mare deve trarre beneficio dal pesce pagliaccio. Quest'ultimo infatti, mangiando, perde particelle di cibo dalla bocca, sbiascica, e poi questo cibo che il pesce pagliaccio ingerisce prima o poi dovrà uscire. E immaginate chi fa comodo avere pupù e cibo sbiascicato, proprio l'anemone di mare, che riceve cibo facile. Ma come abbiamo detto prima, in biologia le cose non sono mai come sembrano. E se vi dicessi che in questa relazione c'è un terzo incomodo? Mi credereste? Infatti all'interno degli anemone di mare, come avviene per i cugini coralli, sono presenti delle alghe piccolissime, delle alghe unicellulari, chiamate zooxantelle, che sono capaci di effettuare la fotosintesi, cioè sono capaci di utilizzare la luce del sole per poterle ricavare energie. Queste energie vengono utilizzate dall'algo unicellulare per crescere, ma in questo caso parte di questa energia viene ceduta all'anemone di mare. Ricapitolando abbiamo il pesce pagliaccio, che si rivolge all'anemone di mare per avere protezione. In cambio l'anemone di mare riceve cibo sbiascicato e pupù. Questo cibo sbiascicato e pupù però è utile anche alle zooxantelle, che sono il terzo incomodo che abbiamo appena detto. Per cui tra le zooxantelle e il pesce pagliaccio si instaura una relazione che viene definita indiretta. Questo è soltanto uno dei tanti esempi che si possono fare di relazioni e di simbiosi. Vi lascio un link in descrizione per approfondire tutti i tipi di relazioni che possono esserci tra le specie. Solo parlando del pesce pagliaccio abbiamo scoperto almeno altre due interazioni. La prossima volta quindi che andate al mare e vedete un piccolo pesciolino, ricordatevi che dietro ci sono tutto un mondo di interazioni che non avete considerato. E sono proprio quelle interazioni che sorreggono l'intero sistema, di cui Homo Sapiens è parte. Dobbiamo smetterla di credere che siamo al di fuori di tutto questo, che siamo al di fuori del sistema. Preservare la natura è anche nel nostro interesse. Preserviamo noi stessi. La nostra potrebbe essere l'ultima generazione in grado di poter fare qualcosa. La nostra generazione potrebbe essere l'ultima a vedere una barriera corallina, a vedere uno squalo. Io non voglio questo futuro e sono sicuro che non lo volete nemmeno voi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, scrivete nei commenti cosa ne pensate e magari aggiungeteci anche qualche suggerimento. E visto che siete già da quelle parti, mettete un like, condividete e iscrivetevi al canale. Grazie. 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 Grazie.